buon pomeriggio a tutti e a tutti grazie mille per essere qui io sono alessandra terrenzi lavoro presso la casa editrice zanichelli e vi do il benvenuto al webinar scrivere narrare emozionarsi a farci compagnia in questo webinar è alessandro mari della scuola olden di torino benvenuto alessandro grazie alessandra buonasera a tutti e a tutti un piacere stare qui alessandro mari è maestro di scrittura la scuola olden e oltre a occuparsi di scrivere i suoi romanzi e di curare programmi di cultura per la televisione e anche di tradurre opere straniere alessandro con i suoi colleghi della scuola olden ha scritto per la zanichelli l'antologia per le scuole medie gli anni del sole che è uscita l'anno scorso nel 2023 e l'antologia per le scuole superiori la seconda luna che invece abbiamo pubblicato e in seconda edizione proprio quest'anno io lo ringrazio di nuovo per essere qui e ti lascio la parola alessandro grazie 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 alessandra beh intanto prendo un minuto per dire che è un piacere essere qui perché quando la scuola olden riesce a fare o prova a fare qualcosa per le scuole è sempre un bel momento un momento che ci riempie intanto di significato il lavoro che proviamo a fare di anno in anno e l'altra è che c'è sempre qualcosa da imparare dagli insegnanti quindi magari anche stasera io tenterò solo di condividere delle strategie o delle riflessioni che abbiamo fatto in questi anni oramai sono 30 che insegniamo la scrittura ma insegnando la scrittura proviamo anche a sollecitare qualcos'altro insomma le competenze o l'alfabetizzazione emotiva dipende dall'età insomma dei nostri studenti e quello che proveremo a fare insieme stasera passando in rassegna alcune idee di laboratorio molto semplici che si possono però utilizzare in classe ecco lì la volontà è quella di provare a utilizzare la scrittura non solo e non tanto per possederne delle tecniche dei codici ma per trovare a farne anche uno strumento esagero ma non esagero in realtà di vita. Comincio diciamo col condividervi un po' il programma di questa sera che è banalmente riflettere su che cosa significa imparare a scrivere naturalmente da un punto prospettico quello della scuola olden è sostanzialmente un punto molto specifico è fatta da scrittori in tante forme della scrittura che siano i romanzi la cosiddetta fiction di oggi piuttosto che molti altri mestieri dello scrivere che vanno dal cinema alla radio alla televisione e poi proporre dopo una riflessione su che cosa può essere imparare a scrivere alcuni laboratori o possibili laboratori di scrittura alcune tracce di laboratorio per la scrittura e naturalmente poi alla fine di questo nostro momento insieme che durerà un'oretta proviamo a misurarci con qualche domanda se quello che ho detto ha suscitato interesse o piuttosto magari anche contrarietà è un dibattito aperto allora la prima cosa che proverei a sistematizzare nella testa quanto meno mia è questo che cosa significa imparare a scrivere cioè l'obiettivo normalmente quando noi diciamo imparare a scrivere al netto dell'espressivismo individuale di ciascuno di noi significa anzitutto padroneggiare le tecniche degli strumenti e dei codici di scrittura cioè noi nel tempo abbiamo formalizzato modi di scrivere è quello che cerchiamo di trasferire dico uso questo noi perché mi ci metto anch'io nel senso che abbiamo molti allievi alcuni anche di 16 17 anni già è trasferire loro un bagaglio di competenze proprio artigianali cioè di trasferire giorno a giorno pieni sul banco come si fa qualcosa che sia costruire una sedia un tavolo oppure una descrizione e invece un altro tipo di testo di contro ed estremizzo apposta accanto a questo padroneggiare tecniche strumenti e codici di scrittura si può coltivare la scrittura affinché diventi un gesto il gesto più naturale possibile cioè si cerca di farla diventare espressione diretta di un'esigenza personale prima ancora che funzionale che vuol dire un po' ricollocare la scrittura nella nostra testa cioè la scrittura non deve assolvere solo delle funzioni la cosiddetta scrittura ad uso ma deve innanzitutto essere sempre più percepita come una possibilità di espressione personale che si traduce poi in formati diversi questo perché perché se ci basiamo solo sul principio utilitaristico della scrittura utilizzata in varie forme molto presto e non dico per gli studenti le studentesse talentuosi cioè quelli vanno anche avanti da soli cioè noi abbiamo questo motto alla scuola onda cioè cerchiamo di non fare danni con loro sono bravi sono già motivati chissà dove nasce dentro di loro questo fuoco ma noi l'unica cosa che dobbiamo fare è dargli un po' di ramoscelli per alimentarlo non dobbiamo farlo spegnere caso mai negli altri invece tocca mettergli dentro tanta legna per tirarlo su e uno dei modi è non dimenticarsi che la scrittura funziona quasi solo se viene interiorizzata come uno strumento di espressione personale cioè un'esigenza c'è questo vocabolo che spesso torna nelle discussioni come un'urgenza qualcosa che sale dentro di noi e che definisce un gesto naturale come per me è correre per esempio cioè esco di casa c'ho voglia di movimento e corro ed è naturale la estremizzo perché queste due concezioni della scrittura cioè padroneggiarla come un insieme di tecniche strumenti oppure coltivarla come gesto naturale producono eh approcci metodologici diversi alla scrittura estremizzo volutamente anche qui nel primo caso si vivisezionano gli elementi costitutivi della scrittura e si producono sostanzialmente esercizi che dovrebbero alfabetizzare la scrittura nella sua funzionalità pura eh credendo che giustamente se noi spieghiamo prima come funziona l'aggettivazione poi come funziona la descrizione facciamo la somma di queste micro competenze poi uno padroneggi il gesto per il tempo se però dimentichiamo di coltivare diciamo l'esigenza psicologica cioè la creatività diciamo così o in ogni caso la l'espressività che è parte parte integrante di questi elementi costitutivi della scrittura molto spesso lo dico anche qui eh misurando la nostra popolazione studentesca quello che accade è che a un certo punto uso questo termine apposta disingaggiano cioè si allontanano dall'urgenza della scrittura ed è molto difficile poi farli tornare se uno non prova emozione a suonare un flauto è trano che lo suoni per anni e la scrittura non è tanto diversa bisogna far apprezzare che cosa fa la musica al tuo corpo e dopodiché si può costruire una tecnica del flauto se noi crediamo che la scrittura invece non sia quel tipo di cosa ma sia semplicemente un insieme di codici molto spesso l'origine psicologica della scrittura fa mancare l'interesse e quindi di conseguenza anche accettare la fatica che talbotta la scrittura produce soprattutto nei ragazzi e nelle ragazze che non sono immediatamente talentuose l'ho detto ma qui l'ho sistematizzato cioè scomponendo la scrittura lo leggo perché è l'unica cosa diciamo chiara nei suoi elementi costitutivi possiamo aiutare la popolazione scolastica a muovere i primi passi nella scrittura ma così talvolta eccolo qua il rischio e dimentichiamo che la psicologia della scrittura è una parte decisiva dello scrivere costitutiva dello scrivere in soldoni significa che se non metto nelle condizioni i ragazzi e le ragazze di divertirsi cioè di stare a proprio agio più o meno naturalmente ma proprio agio con la scrittura andiamo incontro a due dei più grandi delle più grandi diciamo pericoli che sono la mancanza di motivazione cioè sono io a generare le condizioni affinché loro perdano la motivazione perché non riescono a capire cosa c'è oltre al valore funzionale di qualcosa e l'altro è peggio molto peggio senso di inadeguatezza cioè costruisco delle condizioni che a poco a poco fanno sentire sempre più inadeguate le persone che non hanno all'inizio questa naturalezza della scrittura quello che si può fare è intanto e lo dico naturalmente da un punto di vista prospettico l'ho detto molto parziale ma funzionale perché oramai esistiamo da 30 anni la cosa più semplice che si può fare è nonostante diciamo la necessità di esplorare soprattutto le forme d'uso le scritture d'uso nella scuola coltivare la scrittura creativa perché questo gioco forza è proprio costitutivamente la scrittura creativa ha in sé anche codici e strumenti che poi servono alle forme più funzionali della scrittura naturalmente ciò non significa che non si debbano coltivare gli elementi costitutivi della scrittura e questo naturalmente diciamo è un ragionamento che si estende soprattutto nei primi anni cioè soprattutto nei primi anni dei cicli scolastici bisogna ripassare dagli elementi costitutivi della scrittura e qui se però non ci si dimentica che c'è un'esigenza psicologica di comfort dentro la scrittura si possono elaborare degli esercizi sugli elementi costitutivi che tentano quantomeno ci provano di tenere acceso questo fuoco molto individuale cioè della personalità dello studente o della studentessa che affronta quel tipo di scrittura naturalmente diciamo l'ha detto alessandra prima oramai è un po che collaboriamo con l'editore zanichelli e questa metodologia è ricaduta nei libri che poi abbiamo conto di cui abbiamo insieme condiviso l'avventura la seconda luna che la riedizione quest'anno di un libro che oramai c'era cinque o sei anni credo fosse fuori al 2018 credo la prima volta che lo abbiamo pubblicato che è sostanzialmente un precipitato delle cose che abbiamo imparato anche molto sbagliando nei nostri anni nei decenni diciamo di storia della orden hanno prodotto dei semplici esercizi in un volume che gioco forza si chiama scrivere perché quello identitario per noi che lavorano proprio sugli esercizi costitutivi veniva qui messa una pagina ma alla fine del webinar poi sarà disponibile in intera sezione ad esempio di questo di queste da dove provengono scusate questi esercizi che stanno all'interno di scrivere sono molto semplici cioè banalmente se vado a leggere questo è cambiando l'ordine di parole si modifica il senso della frase come nell'esempio che abbiamo visto che stava prima ho visto un film con mercoledì adams e poi sono uscito ho visto un film e poi sono uscito con mercoledì adams e lì si chiede ai ragazzi di appropriarsi degli esempi e di continuare a rielaborare quello che però faccio stasera visto che il libro esiste e vi saranno date diciamo così le pagine di questo libro che potete immediatamente riutilizzare a scuola è provare a fare un passo in più cioè provare a staccarmi un secondo dai meri elementi costitutivi delle della scrittura che si trovano già mappati all'interno di quei libri e provare a alzare un po' lo sguardo e affrontare dei macro laboratori la cui missione primaria è duplice come dicevo ma la riparisco la prima è sperimentare con la scrittura e quindi acquisire competenza libertà nella scrittura la seconda è contestualmente a questo gesto spegnere la paura il senso di inadeguatezza come lo si può fare è un esercizio tutto sommato mica così complesso ma si può strutturare in varie forme si parte ragionando su una cosa da cui tutti passiamo quando insegniamo la scrittura o quantomeno la letteratura che è la trame l'interno sappiamo la storia fatta in un modo ci sono x elementi sono disposti su una linea quella lì noi possiamo ordinarla e non lasciarla ordinata così come naturalmente dovrebbe essere oppure è rielaborato ora se io chiedessi a un ragazzo di sviluppare dicendogli solo ogni storia ha un incipito uno svolgimento una fine fammene una la sua difficoltà primaria a livello psicologico parlo di punto psicologia di creatività e sentirsi inadeguato nell'invenzione è molto quando si dice la pagina bianca dello scrittore noi conosciamo tutti la sensazione e non è è proprio il contrario cioè non è che non si presentano idee nella testa di chi vorrebbe metterle per iscritto se ne presentano troppe e nessuno istintivamente a meno che non si abbia già un talento molto precoce riesce a scegliere quella su cui concentrare c'è questa grande confusione tutto ti sembra giusto tutto ti sembra sbagliato e se io invece voglio allenare il gesto della scrittura quello che devo fare è spegnere quella parte di cervello che si sta concentrando ossessivamente su cosa racconto e liberare quel pezzo di memoria farlo concentrare sul come lo racconto quindi la mossa più semplice per farlo è intanto dare ai ragazzi e le ragazze un esempio di trama cioè io glielo do proprio glielo scrivo davanti a loro un po vicino qua ve ne ho scritto uno per stasera ma è proprio perché diventa una base su cui fare un laboratorio per utilizzarlo e farne uno insomma e rielaborarlo alla stessa sono tre elementi incipit svolgimento finale e glielo do per intero cioè un ragazzo o una ragazza esce imbronciata da scuola e da sola si avvia verso la fermata dell'autobus che però chissà perché ci vuole sempre un imprevisto all'inizio di una scuola all'inizio di una storia che rompe diciamo l'abitudine quel giorno l'autobus non arriva la ragazza decide così di avviarsi a più svolgimento per quanto imbronciata cuffia nelle orecchie la ragazza comincia a prestare attenzione al mondo attorno a lei e poco lontano da casa intravede un cane che sembra senza padrone gli si avvicina e bisogna arrivare al finale quando apre la porta di casa la ragazza ha il cane con sé e il fiatone sono i tre elementi che servono per costruire una storia già in realtà potrebbe stare in piedi così quello che posso cominciare a fare dopo aver dato questi tre elementi è ragionare su che su cosa vogliamo farli allenare allora quasi sempre nelle lezioni di scrittura si ragiona su come sono fatti i finali delle storie come come sia come si passa da un finale all'altro cosa codifica questi finali la esagero perché tanto sappiamo tutti di cosa parliamo uno è un happy ending le cose si sciolgono bene uno è un dramma le cose si sciolgono male e uno è un finale aperto diciamo questi tre si passa per e allora io potrei intanto dare al ragazzo la possibilità di scegliere uno di questi tre finali e poi di scrivere il racconto che naturalmente se scelgo uno di questi tre finali va a ricodificare tutto quello che precede cioè chiederà agli studenti e agli studenti di cominciare a mettere in questo senso inventare ma significa colmare un vuoto che ho già creato cioè molto vincolato elementi dettagli che portino più o meno direttamente sempre più direttamente il racconto verso il finale anche qui tre esempi molto semplici quando apre la porta di casa la ragazza ha il cane con sé e il fiatone il fiatone non si capisce immediatamente ha a che fare con qualcosa che deve essere accaduto che i ragazzi devono svolgere quando apre la porta di casa la ragazza è sola non ha strutturato nessuna relazione col cane e piange e c alla fine quando apre la porta di casa la ragazza dice alla madre ti prego vieni con me a un amico da presentare se io do così come questa pagina quello che accade più o meno naturalmente ma li si può indirizzare nella lavorazione è che il punto due è quello dove si concentra l'invenzione vincolata che sto chiedendo loro per una ragione molto specifica ci sono due sostanzialmente incognite dentro questo racconto a livello cognitivo che i ragazzi se si stanno alfabetizzando le emozioni cercano immediatamente di cogliere e di svolgere la prima è perché questa ragazza è imbronciata cioè che l'autobus non passi quel giorno ce ne frega poco non è quello che stimolerà la loro immaginazione passa ogni tanto non passa in alcune città capita spesso non è quello su cui si concentreranno come nodo da scioglie però l'imbronciata è un segnale che naturalmente allerta e in qualche modo reattiva la loro memoria anche esperienziale cioè sono in classe si conoscono qualcuno di loro sarà andato da casa da scuola imbronciato e la loro memoria comincerà a rievocare qualcosa che può essere la giustificazione di quella la seconda è che se li costringo a scegliere un finale per esempio quando apre la porta la ragazza è ancora sola e piange in cui il secondo punto non basta non basta scritto com'è per essere esaustivo il che significa che gli si avvicina e quei tre puntini non vanno a finire nel finale chiedono al ragazzo di scrivere due righe una riga mezza riga sette righe dipende che faccia sì che questo meccanismo di senso attraverso la loro scrittura fili dritto fino al finale è la cosa più semplice del mondo non è semplice però o meglio è più semplice la cosa più semplice del mondo se gliela metto in questi termini perché loro hanno tutto sommato un binario da seguire e noi dico noi classe diciamo di maestri o di insegnanti quando li accompagniamo nella scrittura dei gesti molto piccoli da accompagnare cioè qui gli devo solo spiegare guarda che dubbi hai il primo è su imbronciata prova adesso a trascurarlo concentrati sul secondo perché secondo te la ragazza piange deve essere successo un fatto lo devono andare a recuperare nella loro testa probabilmente la risposta più naturale sarebbe ha cercato di portarsi via il cane oppure ha visto e non c'è riuscito oppure ha visto il padrone del cane che lo picchiava ha provato a intervenire ma poi quello è riuscito a scappare lo stesso lei non è riuscito a fare nient'altro delusa o qualcuno si inventa delle cose che io in questo momento non sono in grado di inventare perché l'immaginazione dei ragazzi è straordinariamente notevole se riesco come se riesco questa è la prima cosa di forzo a scegliere un finale li porto forzando di ascendere o chiedendo loro di scegliere un finale a colmare almeno uno dei due vuoti diciamo così motivazionali cioè di logica del racconto che ci sono cioè il secondo punto e poi quello che potrei chiedere adesso che l'hai fatto in un modo fammi anche tutti gli altri due dei finali sembra una cosa meccanica non lo diventa nella misura in cui lo capite ovviamente ma lo esplicito dentro qui c'è una chiamata diretta a la loro memoria lo dicevo prima e diciamo anche noi scrittori che abbiamo diciamo tanta carriera alle spalle o tanti libri il gesto più naturale che facciamo per scrivere quei libri è trasformare un'esperienza che abbiamo avuto ricollocandola quasi sempre in una cambiazione o in un'altra circostanza è rarissimo oggi noi facciamo molta discussione su quanto è biografico non biografico qualcosa di base diciamo è tutto biografico per gli scrittori dipende solo dal grado di rielaborazione anche la fantascienza è in parte la trasposizione fattuale di paure di uno scrittore di un periodistopie che hanno a che fare con domani mi sveglio e il mondo è governato dalle macchine e la messa diciamo in scena di quella paura quindi è molto biografico comunque semplicemente non metto i fatti miei sulla pagina loro andranno a piscare dalla memoria e proveranno qui e là a riannodare dei fili che dalla loro memoria portano come lo fanno attraverso le dita nella scrittura ma non se ne stanno rendendo conto non sono concentrato ossessivamente su come deve funzionare la frase sto attivando la fonte della scrittura che è la voglia di partecipare con l'immaginazione a un flusso determinato dalla scrittura quello che posso fare con la stessa trama perché anche qui bisogna diciamo concentrare gli sforzi quindi non necessariamente inventarsi 50 trame è provare poi a chiedergli di colmare il primo cioè diciamo che noi scegliamo invece il finale quando la porta di casa la ragazza ha il cane con sé il fiatone quando doloro la prima la traccia provate a togliere questa frase è un ragazzo o una ragazza esce imbronciata da scuola e da sola si abbia verso casa l'innesco emotivo è molto più preciso e cognitivo cioè perché è sola perché imbronciata se glielo tolgo esagero diciamo la sua percezione e richiamo in un qualche caso a risolvere qui anche la cosa che è rimasta in sospeso nella prima versione cioè la prima versione portava loro a concentrarsi quasi naturalmente sul secondo punto perché è quello che si deve annodare per primo al finale se tolgo questa frase vi aiuto a concentrarsi anche sul secondo l'innesco emotivo che per me è cognitivo lo spiego un secondo perché non per tutti può essere così noi dico noi come olden frequentando la scrittura la letteratura in generale e il racconto siamo quasi tutti portati a pensare che non esiste operazione cognitiva che tu possa fare attraverso la scrittura se non c'è un'attivazione il nostro cervello non reagisce il nostro cervello reagisce per fare esperienze le esperienze producono dei riflessi emotivi dentro di noi e io registro quell'esperienza con il colore dell'emozione che mi ha dato quindi la prima la prima prima responsabilità se voglio alfabetizzare la scrittura è dare dei punti d'appoggio affinché loro possano sentire risvegliare o a quanto meno conoscere almeno in parte l'emozione sottesa alla scrittura e cognitivo perché una volta che li ho attivati allora il loro cervello ha un motivo personale per lavorare che è che cos'è la paura in questo caso che cos'è la rabbia che cos'è qualcosa questo qui è molto semplice però questa traccia si leva quello che posso addirittura ancora fare con la medesima traccia è provare a dargli una spiegazione e vi dico solo perché questo io potrei fare una ragazza o ragazzo si è imbronciata da scuola e da sola si avviò verso casa perché alternativa all'ultima ora mentre la professoressa d'italiano parlava con il bidetto il suo compagno di banco l'ha insultata una situazione che probabilmente conoscono il secondo punto rimane uguale finale invece aperto lo devono inventare cosa sto facendo perché ho due categorie poi di scriventi possibili io do loro un'alternativa che assorbe il dubbio di quell'imbronciata e alcuni quasi naturalmente si accomoderanno su quella soluzione se io dico se hai la libertà di scegliere questa motivazione o di inventarne una tu alcuni si accomodano e magari cercano di esplorarla un poco cioè riusciranno a o inventare o riproporre in forma scritta un'esperienza di cui sono stati testimoni perché il fatto che qualcuno di loro si scambi degli insulti non è così la seconda è che lì e si capisce anche l'attitudine dello studente della studentessa e che alcuni di loro reagiranno quasi naturalmente in maniera contestataria quindi rifiuteranno questa spiegazione e doppiamente cercheranno di trovarne una di inventarne una per non scegliere quella che abbiamo e anche lì dal punto di vista dell'ingaggio emotivo sto creando una sorta sto rendendo un po più frizzante la sfida e li chiamo in causa in maniera ancora più diretta stesso prosegue cioè io adesso qui li porto a concentrare sulla prima motivazione la seconda sono comunque chiamati a dover intervenire nella terza posso lasciare la libertà di scegliere uno dei finali di tempo quarto esempio su cui mi concentrerei un secondo è perché gli sto chiedendo di colmare il secondo perché lì c'è spazio per approfondire in verticale spazio per approfondire in verticale vuol dire questo vuol dire che se io faccio scrivere racconto a qualcuno poi o gli dico prima che cosa che cosa sta per fare o glielo dico dopo commentando e gli do la possibilità di riscriverlo se è stato impreciso che cosa deve fare nel secondo punto quello che sostanzialmente è chiamato a fare chi scrive è capire che cosa c'è dentro quell'essere imbronciato e dentro quel tentativo di avvicinarsi a un altro essere vivente che in questo caso è un animale e poi fare un gesto perché noi non possiamo uscire da questo pezzo del racconto se la ragazza non fa qualcosa la ragazza potrebbe infischiarsi potrebbe avvicinare potrebbe cercare di rubare il cane potrebbe entrare in un negozio compragli una ciotola d'acqua perché vede che ha settato c'è una bottiglietta d'acqua e dagli da bere perché ha settato qualunque gesto i nostri ragazzi scegliano di mettere in scena dice qualcosa precisa l'identità del personaggio che fino allora non è tanto e questo diciamo è un motivo di riflessione sulla scrittura in cui loro capiscono che il mezzo della scrittura è un mezzo straordinariamente potente per leggere il mondo cioè provare a codificare un essere umano attraverso i gesti e le azioni che fa in che normalmente è quello che loro già tentano di fare leggendo non verbale tanto delle persone attorno a loro ma anche poi il pepale e quello che io li spingo a fare provare a fare la stessa operazione cioè dico nella tua esperienza tu hai un tot di azioni che vedi le persone compiere prova a richiamarne una e mentre ne richiami una e la fidi a questo personaggio e rifletti sul fatto di come esce cioè se la ragazza si avvicinasse al cane e gli tirasse un calcio e se ne andasse l'effetto sarebbe la domanda che scatenerebbe perché la ragazza lo fa e la ragazza può farlo per due ragioni molto semplici che magari loro potrebbero spiegare ha una rabbia dentro di sé incontrollabile che viene da qualche parte magari da un contesto familiare o da qualcuno che ha iniziato qualcosa che è successo a scuola oppure perché punto di domanda perché fa un gesto del genere è cattiva e violenta di sua lo faccio apposta su un tema complicato perché ci porta a interrogarci no cioè qualunque gesto loro cerchino di mettere su carta chiede loro di riflettere su la ragione di quel giusto lo fanno attraverso la scrittura ma quello che stiamo facendo è tutto sommato coltivare un'empatia tra esseri umani cioè chiediamo loro di fare lo sforzo di pensare gli altri e di capire che cosa fanno gli altri e soprattutto che cosa li muove qual è diciamo il segreto dietro che nostra è tutto questo cioè basta farlo esplicitando una domanda cioè se io gli dico guarda qua sei chiamato a scegliere un gesto che la ragazza fa e nel farlo stai attento perché quel gesto identificherà in questo racconto nella vita fuori un altro discorso per sempre questo personaggio e la scelta diventerà molto più sofisticata molto più attenta qualcuno se ne fregherà e lo farà veloce e non ci rifletterà mai più ma un buon corpaccione gli studenti comincerà a fare attenzione alla singolarità di un gesto non solo si spera nella scrittura ma anche ok ho fatto degli esempi perché potrei dare loro delle alternative mi tira un calcio lo accarezza con prudenza e poi capito che è davvero senza padrone lo prende pericolare lo porta con sé lo accarezza non prudenza e poi capito che è davvero senza padrone lo prende pericolare lo porta con sé e aggiungo un pezzettino io chiedendosi se mai i genitori glielo faranno cioè li aiuto anche qui se vedete il punto b e il punto c sono lo stesso ma un pochino più sciolto perché sostanzialmente se io do il ci a queste ai ragazzi li sto indirizzando su come interpretare questa trama e scrivere spegnendo la paura di cui vi dicevo prima che a volte può spaventare perché magari uno di loro se gli dico lo accarezza con prudenza e poi capito che è davvero senza padrone lo porta pericolare lo prende pericolare lo porta con sé dice ok poi entra in casa c'è il cane e tutti sono felici e contenti e tu dici ma è davvero verosimile ma manca un pezzettino a casa tua se portassi un cane lo accetterebbero subito non ti chiederebbero niente o almeno dove l'hai preso sono domande molto banali che però è della vita reale che entrano e condizionano il loro modo di immaginare attraverso la scrittura in modo e lo stanno facendo con le dita cioè alla fine di questo processo loro sapranno scrivere un po meglio perché hanno sentito che la scrittura è allacciata allacciata ma proprio strettamente ha un'esigenza personale di capire il mondo o restituirlo in una cosa posso esagerare perché magari volete una classe di gente sofisticata qualcuno ha ottimi studenti davanti e vogliono essere stimolati sempre di più posso aggiungere un punto posso cominciare a tirare questa trama dire un ragazzo esce imbronciato da casa o cambiato non da scuola da solo non lontano da casa intravede un cane che sembra senza padrone si avvicina cosa succede nel mezzo chi lo sa il ragazzo torna a casco se lo isolo come punto sto chiedendo a lui o lei di dargli molta dignità sto aggiungendo a b c o a b c d sto mettendo spazio finché loro colmino sempre di più un vuoto perché magari appunto sono particolarmente talentuosi hanno bisogno di meno stimoli hanno bisogno di essere più solo indirizzati nell'essenziale e non invece accompagnati nell'esplorazione di ognuno delle sfumature che questo piccolo questi piccoli frasi possono portare così fin qui ragioniamo solo su un ordine degli addendi che non è mai cambiato cioè c'è qualcuno che esce da scuola la casa incontra un cane alla fine ne fa qualcosa lo porta lo porti una volta che ho fatto questo primo laboratorio la cosa che posso fare riscrivere il racconto cominciando a ragionare invece su una cosa più sofisticata che noi chiamiamo montaggio cioè sull'intreccio perché questo permette a loro di capire un po meglio cose che abbiamo già ripetuto fino a qui e la riscrittura per noi in ordine è un tema rilevante una prassi rilevante perché io per primo quando scrivo le cose che competono a me anche solo come diciamo autore non faccio quasi mai buona solo la prima rimetto mano perché la scrittura mi permette di capire come si muove è una cosa viva ed è bello farli continuare a esercitare per quanto possa essere noio il rischio della noia se gli cambio le carte in tavola di volta in volta si portano presso un ragionamento che hanno fatto prima che da un lato li mette al sicuro perché hanno già pensato e dall'altro fa trovare l'emozione in questo caso come di montare coi lego qualcosa cosa faccio gli do quattro punti però in questo caso cambio loro molto semplice cioè non lontano iniziamo non lontano da casa il ragazzo intravede un cane che sembra senza padrone si avvicina mi fermo gli chiedo loro di tornare indietro il chiedere loro di tornare indietro può essere più o meno sofisticato per intenderci se voi chiedete ai vostri ragazzi di scrivere il primo punto al presente indicativo è chiaro che il secondo punto lo dovranno scrivere in un altro tempo verbale se sto cadendo per esempio motivazione suspense e gli spiego perché cioè il ragazzo è uscito imbronciato da casa e da solo si è avviato da qualche parte il flashback dovrebbe dirci perché il ragazzo si avvicina in un qualche modo al cane e come sta per fare qualcosa quindi carica emotivamente e di senso la scena e carica anche di suspense perché se io ho visto un ragazzo che si avvicina un cane come per fare qualcosa attacco vado a spiegare come è uscito di casa e poi ritorno al tre nel presente narrativo e gli faccio fare il gesto di cui abbiamo già discusso cioè l'azione che identifica una volta per tutte lo stato e lo statuto di quel personaggio beh sto mettendo loro nella condizione di ragionare sul fatto che la scrittura è spiega le ragioni psicologiche che muovono le persone quarto punto finale finale può essere questo può essere un altro è molto semplice anche qui sto solo lavorando con quattro punti non darei mai in questo lo dico diciamo solo per la mia esperienza quindi si può essere condividere o non condividere non darei mai questo esercizio così com'è cioè non direi partite da qua prima farei scrivere quello semplice dei tre punti in ordine dopodiché lavorerei sull'integgio perché il rischio che la faccenda si complichi o che loro perdano immediatamente l'esigenza personale o l'innesco personale di questa storia diventa complicato direi questo anche qui sono cose che noi abbiamo mappato nei libri che abbiamo scritto finora cose che sostanzialmente trovate o negli esercizi che noi chiamiamo palestre o laboratori dipendene oppure nelle sezioni che abbiamo dedicato volta a volta alla teoria e questo ragionamento dell'inizio della fine e dello svolgimento e di come possono prendere forma se cambio gli addendi e poi comincio a ragionare sui dettagli qui lo trovate semplicemente riassunto in un'infografica che però è il tentativo di mettere negli occhi delle persone e soprattutto delle studentesse e degli studenti una cosa molto obbligo le storie si somigliano hanno tutto un punto di ingresso è un punto a cui si deve arrivare lo spazio che devo attraversare può cambiare sono storie che abito nel senso proprio del termine perché quando entro in un racconto o produco una storia sto facendo uno spazio che le persone possono abitare e poi posso ragionare sul corpo naturalmente il il la struttura che vi ho proposto prima viene da un ovvio ragionamento di struttura cioè narratologica che è il seguente cioè riassumerei così nella teoria inizia tutti i racconti o le storie in generale iniziano da un primo atto che ha questi tre punti assolti quasi sempre non parlo di montaggio parlo solo dell'ordine della trama c'era una volta qualcosa l'ambientazione dei personaggi ogni volta cioè la situazione della normalità che si deve rompere perché se ora se in un racconto non si rompe qualcosa non funziona mai e ma un giorno succede qualcosa di imprevisto se tornate alla piccola trama che vi ho proposto io la stessa cosa ragazza una ragazza escono da scuola azione ripetuta imbronciata campanello per qualcosa diverso quel giorno l'autobus non esce abitudine andata in frantumi e finito il primo atto cioè aveva una situazione l'ho rotta in qualche modo anche poco come succede in quella singola frase secondo atto in conseguenza di ciò uno dei personaggi compie un'azione che non avrebbe compiuto prima in conseguenza di ciò azione del personaggio innesca delle reazioni da parte degli altri personaggi buoni o cattivi mettiamo se la ragazza non fosse stata imbronciata quel giorno non si sarebbe mai avvicinata un cane invece si avvicina cerca di capire come sta il cane non sta tanto bene arriva il padrone le capisce che il padrone è cantivo deve portarglielo via e quello reagisce sono concatenati di azioni e di motivazioni che si scontrano terza la storia si complica diciamo che la ragazza prende il cane pericolare scappa il padrone la insegue e tutti cercano di raggiungere il proprio obiettivo mi pare che non ci sia una via d'uscita chiudo secondo atto inizio il terzo per lo scioglimento qualcuno dei personaggi risolve la situazione tutto si conclude con un nuovo equilibrio di solito è migliore del primo non è detto vi condivido questo schema che poi ritroverete tra gli appunti diciamo materiali che metteremo a disposizione perché io voglio creare delle piccole trame su cui fare esercitare diciamo questi ragazzi questo è il punto di attenzione mi pare ovvio che lo conosce la base diciamo del ragionamento narratologico però vorrei sottolineare il fatto che non è uno strumento solo di analisi cioè le storie si possono analizzare utilizzando questi schemi ma si possono inventare o si possono utilizzare questi schemi per guidare chi vuole imparare a scrivere attraverso un processo che può fare paura se comincia a dargli qualche indicazione ecco che quella paura a poco a poco recede a un passo indietro non dico che la sano perché non è detto che riesca a sanarla per intero ma quantomeno la contengo noi usiamo un sacco di parole della narratologia per condizionare diciamo lo studio della scrittura anche non solo della letteratura e a volte ci utilizziamo solo in virtù della loro funzione analitica invece è importante capire che ciascuno di quelli ha un trampolino su cui io posso lavorare vi faccio un solo esempio basandomi di nuovo sulla storia che abbiamo fatto prima che io faccio la trama poi lavoro sull'intreccio posso anche lavorare sui punti di vista per esempio quella storia la scrivo in prima in terza persona la scrivo poi al passato il presente come vi ho già detto posso cominciare a far ragionare i ragazzi su che tipo di cose li emozionano voi più o meno credo sappiate che nell'editoria commerciale diciamo non scolastica esiste una categoria un pochino ridicola in realtà che abbiamo mutuato dagli stati uniti che si chiama young adult che però definisce diciamo un target anagrafico è quello sostanzialmente tra la fine delle scuole medie e l'utale dei superiori o fino quasi alla fine dei superiori e c'è una legge diciamo editoriale che in realtà una constatazione di come le persone gradiscono non gradiscono le storie normalmente se abbiamo studenti o studentesse della prima seconda superiore loro apprezzano più facilmente personaggi che sono di qualche anno più grande di loro perché hanno una voglia aspirazionale verso la vita quindi vogliono immaginarsi come sarà quando diventeranno i giovani adulti oppure più piccoli di loro perché fanno valere l'esperienza come se avessero un fratello più o meno piccolo o una sorellina più o meno piccola a cui dire ma no ma non farla quella cosa perché io l'ho fatta mi è capitato non dovresti proprio andare in quella direzione leggono con questa attivazione emotiva cioè il modo migliore per tirarle letto e quindi ragionare su che tipo di ragazzo o ragazzo può incarnare il protagonista di questo micro raccontino è utile per potete dirgli fate la più piccola di voi di qualche anno oppure fate la più grande di voi di qualche anno e vedrete che le storie a poco a poco si modificano nelle riscritture cambiano e quello vuol dire che è un cervello che mette a fuoco la realtà attraverso la scritta e poi chiederò loro di aggettivare meglio una frase capiranno che quell'aggettivo magari serve a identificare una volta per tutte quella ragazza e faranno molta più attenzione perché quella ragazza protagonista della storia dipende da loro non è una funzione del testo è una piccola creatura dell'immaginario a cui loro stanno dando vita ed è emozionante anche io non sono stato uno studente brillante ad esempio alle superiori eppure la scrittura mi emozionava proprio per questa sensazione il fatto che qualcosa dipendesse da come io articolavo le parole anche se non avevo diciamo questo talento allora ok questa è la parte che si può fare diciamo sia come laboratorio di scrittura sia prendendo per esempio a prestito le trame dei racconti che ciascuno di voi legge in classe dalle biblioteche che i testi che adottate o che il vostro gusto selezionano e si possono lavorare isolando questi punti di trama naturalmente l'altra cosa che si può fare scusatemi è complicare la faccenda e provare a lavorare anche su materiali molto più complessi diciamo di una short story di un racconto breve o di una poesia fatta comprensibile per quell'età ma andando ad aggredire diciamo così dei totem dell'insegnamento come non so l'epica greca e provare a utilizzare l'epica nello stesso modo in cui utilizzato questo schema fino a un secondo faccio provare a tirare fuori da lì qualcosa che determini dei modi di scrittura affinché loro rielaborando questi modi di scrittura facciano proprie delle informazioni che altrimenti rimarrebbero solo i semplici informazioni da memoria e quindi è il momento in cui io esplicito questa regoletta che per noi di ordine d'oro normalmente quando ad esempio noi insegniamo la storia in parte delle storie delle letterature un modo funzionale per farlo è sempre far rielaborare i testi più importanti o far passare dalle dita delle persone qualcosa di quei testi cioè se c'è una grande descrizione Madame Bovary è inutile dire che è una grande descrizione perché qualcuno non ha ancora la sensibilità per apprezzarla diverso è dargliela in mano e provare a fargliela rielaborare perché in quel caso l'informazione di studio diventa necessaria per rielaborare e rielaborare a partire da dei materiali un po' più caldi piuttosto che farlo solo vivisezionando la scrittura e dando degli esempi estemporanei è molto più facile che l'ingaggio emotivo e di conseguenza cognitivo accada se però vogliamo andare sull'epica poi vi farò vedere magari solo un pezzo sono sicuro che nei materiali che poi vi condivideremo ci sono dei cosiddetti esercizi di produzione a partire dai brani dell'epica in cui si chiede ai ragazzi proprio questo sforzo cioè di prendere una materia che tutto sommato sembra molto lontana da loro e avvicinarla se capendo per esempio gli antichi greci si facciano domande non dissimili da noi sull'esistenza sono solo cambiate le risposte che ci diamo avvicinando il cuore emotivo e cognitivo di quei testi ma quello che si può fare visto che quello lo trovate nei materiali che vi condividiamo è provare anche qui a farlo di un grado più alto può essere ambizioso ma in realtà io lo trovo molto divertente quando dico lo trovo molto divertente non lo dico diciamo in senso astratto dico che sono cose che anche noi proviamo a fare nelle nostre classi ed è ad esempio guidare ragazzi e ragazze nell'ideazione di una personalissima epica utilizzando cinque mosse essenziali che noi diamo che possono imparare dall'epica vuol dire ho fatto l'introduzione ad Iliade e ho fatto tre o quattro brani loro hanno capito più o meno come si muove questo animale dell'epica e piuttosto che solo interrogarli diciamo su come è fatta l'epica io faccio sì che le informazioni di cui loro dovrebbero essere titolari determinino delle mosse di scrittura che loro sono chiamati a interpretare se dovessi farvele insomma le ho fatte per questo momento insieme cinque cose che io consiglierei che sono e lo capirete subito non solo cinque tratti costitutivi della scrittura ad esempio dell'Iliade ma anche cinque cose che calamite che radunano attorno a sé molte delle informazioni che noi vogliamo trasmettere loro per tramandare il sapere ecco riusciamo a unire le due cose produzione della scrittura e ritenzione direi delle informazioni cioè trattenimento personale cinque mosse se ne potrebbero fare cinquecento ma ne farei cinque perché poi così sto dando una strada ma non li sto stringendo la prima ovvia che naturalmente parte dal fatto che se uno ha fatto il proemio dell'Iliade lo sa abbastanza subito e se uno di noi un adulto gli ha spiegato come va a finire diciamo il poema è chiara è prendere un'emozione grande e intensa tenetelo come se fosse una traccia per un racconto prendere un'emozione grande e intensa e fare in modo che tutto il resto cioè che tutto quel che accade in un testo a cui stiamo dando forma che fosse anche di mezza pagina dipenda in maniera evidente da quell'emozione è ovvio mi direte perché lo è nel senso che l'ira funesta di Achille regge noi lo sappiamo diverso è che però io dico a un ragazzo non deve essere per forza l'ira questa emozione ad esempio prendi la paura non è conosciuto qualcuno che ha una paura così grande da non uscire di casa e condiziona tutta la sua vita o prendi del momento di gioia più grande e pensa ai tre giorni dopo quel momento di gioia più grande fai sì o allora più felice della tua vita e rifletti su come in quel momento tutto quello che è accaduto era in parte determinato da quell'emozione cosa deve fare la loro operazione mentale che fanno qui? intanto richiamano le informazioni che voi probabilmente gli avete già spiegato con grande generosità rispetto al codice dell'Iliade e dall'altro è provare a prendere quel pezzo dell'Iliade e farlo proprio la seconda mossa che bisogna fare è anche qui scontata ma non è scontata se gli mettiamo davanti ai nanocchi quello che ha fatto quello che noi il collettivo diciamo che noi chiamiamo Omero inventa un personaggio mosso da quell'emozione prendi un'emozione che conosci grande e intensa e poi mettila dentro un personaggio o meglio cominciamo un po' a complicargli la faccenda non un personaggio qualunque cioè prendi un eroe o un'eroina e spiegheremo e sapranno in qualche modo che cos'è un eroe o un'eroina e fai sì che i suoi comportamenti dipendano per lo più da quell'emozione senza che quell'emozione si prenda tutto lo spazio di sentimenti l'esempio è ovvio no? Achille è mosso dall'ira ma non per questo non prova in qualche modo pietà a un certo punto o dolore quando muove proprio o pietà davanti a prima non sempre diciamo l'emozione che genera che fa da motore della storia poi si mangia tutto lo spazio così come se una persona ha grande paura che magari è un campione di tuffi un giorno non può sorridere o mezz'ora non può essere felice perché riceve una bella notizia è molto semplice sono sei punti da sboccio terza cosa in tutta evidenza che però aiuta loro a richiamare sempre solito il gioco informazioni o sensazioni che hanno radunato leggendo insieme a voi dei passi dell'Ivian e poi chiamati a riprodurla è non solo avere un'emozione non solo metterla dentro un personaggio che si muove con quell'emozione e fa anche qualcos'altro è un contesto eccezionale dove devono inventare un contesto eccezionale ossia uno scenario un setting diverso dalla quotidianità per due ragioni che possiamo spiegare loro intanto perché più grande ed eccezionale il contesto più sbalogitivo che una singola persona per quanto eccezionale possa condizionarlo soltanto perché è mossa ad un'emozione non è se ho provato a spiegarglielo con ciò che conoscono per esempio i supereroi lo capiscono abbastanza in fretta o con Harry Potter cioè pensate Harry Potter mosso che riesce a cambiare con le sue sole azioni un contesto complicato perché ad esempio alla fine della saga di Harry Potter che loro conoscono il contesto è abbastanza complicato è un cattivo che invade come fosse la guerra di Troia le mura di un castello l'altra cosa che si può far notare perché è parte di quello che già conoscono o che magari conosceranno attraverso la lettura di altri documenti di altri testi magari più contemporanei ma che voi potete far notare è perché alla luce di un contesto eccezionale anche la finale dello sport di cui sono appassionati tutto risulta sempre più intenso o più esemplare cioè qualunque piccolo gesto qualunque piccolo pensiero qualunque sentimento anche il meno importante ha qualcosa di esemplare se avrete mai visto un film sulla seconda guerra mondiale insieme a loro sarà ovvio per loro che bere un bicchiere d'acqua in quel contesto è qualcosa di eccezionale molto diverso dalla quotidianità in cui bevono bicchieri d'acqua è molto semplice ma non è semplice spiegarglielo e fargli capire che se vuoi avere un personaggio mosso di un'emozione che risulti in qualche modo decisivo dentro di una storia se vuoi fare un'epica gli devi dare anche un contesto eccezionale un'epica ispirata alle livelli in questo caso naturalmente un contesto eccezionale se fosse rodissima sarebbe ancora difficile quarta mossa non da poco dai a questo personaggio a questo eroe o eroina che sta inventando un avversario degno cioè chiamiamolo così di pari grandezza ma con una specificità sua cioè un sistema di valori diversi o comunque una motivazione diversa che lo muove e se abbiamo letto linea del colore siamo almeno passati dallo scontro tra Ettore e Achille dai a questi due una scena o meglio la scena di quello che sto scrivendo l'intero racconto potrebbe essere solo quasi soltanto questa scena e guardate che questo anche qui lo capiscono molto velocemente uno con la loro immaginazione e richiamando riferimenti che loro conoscono sto su Harry Potter faccio un esempio ma solo perché l'ho menzionato se avete visto almeno il film o comunque ho letto i libri che loro sicuramente i film l'hanno visti o hanno giocato a un videogioco molto famoso di Harry Potter che è strutturato come film sanno inconsciamente perché nessuno glielo ha ancora esplicitato conoscono qual è la dinamica di un duello epico che è la cosa che ci ha insegnato Lilia cioè Harry Potter alla fine del sesto episodio della serie di film deve andare incontro al cattivone che è Voldemort e quello che fa è accettare come Ettore il glorioso di andare incontro alla morte nel caso per difendere la sua città che in quel caso è il castello di Occhi saluta i suoi famigli in qualche così come saluta Andromata lui saluta Ron e Hermione e si presenta davanti all'amico animale brutale come quasi Kim disposto a morire per l'onore di questa faccenda e per salvare il trucco è che in Harry Potter lui c'ha una pietra che lo fa i sogni ma questo è un'evoluzione di quello che abbiamo imparato da Liviate quindi la scena la scena deve in qualche modo contenere due mondi sostanzialmente che sono tutti riassunti da due personaggi quindi se uno è un animale probabilmente l'altro è più nobile se uno è patetico l'altro è drammatico si fa capire e si possono far capire diciamo le diversità tra i personaggi anche banalmente agendo sulle loro predilezioni o antipatie cioè di quello che hanno attorno quinto più sofisticato questo dipende diciamo da chi avete davanti che se tenete in mente l'Iliade l'Odissea l'Iliade è ciò che ne costituisce diciamo il setting necessario per cominciare a ragionare è che attorno a questi due personaggi che radunano l'intera epica che stiamo costruendo uno mosso da un'emozione uno mosso da un altro sistema di valori servono degli amici se sto scrivendo diciamo un'epica un po' più lunga in mezza pagina devono esserci dei personaggi secondari diciamo così meno decisivi però indispensabili perché servono anche quelli stando accanto ai due eroi fanno risultare ciò che li definisce pensate a se io non avessi Agamemnon è almeno Epatroclo dentro Liliade non saprei davvero chi è Achille si distingue da Agamemnon per alcune cose e si distingue o meglio è affine a Patroco per A allo stesso modo l'esempio più ovvio diciamo di Liliade è Ettore Paride sono le cose diverse e Ettore svetta perché hai Paride accanto a cui viene spettata fino a un certo punto una web semplice anche qua cinque mosse sto chiedendo loro di inventare un raccontino appoggiandosi a cinque regolette che vengono però da un bacino di informazioni che voi avete già condiviso con loro il risultato è dubbio se faccio questa operazione mentre insegno Do a loro un'occasione per sentire che lo studio serve loro non solo allo studio in sé per sé ma per capire qualcosa quelli più sofisticati e quelli già più attrezzati avranno capito che serve per capire le origini della nostra civiltà la storia che ci precede ad un piacere quasi archeologico nella scoprire da dove veniamo e che domande ci facciamo dall'origine del tempo ma altri invece gli sto dando la possibilità di prendere almeno le informazioni essenziali perché le devono riutilizzare e nel farlo creativamente state certi lo dico da uno che poi fa quel mestiere cioè vive di scrittura passeranno dalle stesse domande o almeno da alcune delle domande per cui sono passati anche gli autori delle storie che leggiamo perché alla testa degli autori non è diversa da quella degli altri passano le stesse domande e Omero a un certo punto si sarà chiesto mi serve questo mi serve quello come faccio a far risultare più fluido a questo racconto e via diciamo ok ho promesso che a un certo punto non sarei stato solo nel macro con questo esercizio ma sarei sceso anche nel micro e ad esempio questo qua è un set molto semplice in realtà di esercizi prima di arrivare a questo che vi ho detto con cui io posso sollecitare la comprensione e l'analisi e poi la produzione diciamo a partire dal brano classico del duello tra Ettore e Achille rispondendo a quello che vi ho detto prima cioè al fatto che quando chiedo una rielaborazione quella rielaborazione lì utilizzando naturalmente delle forme o dei pezzi elementi costitutivi della scrittura intanto serve anche a tenere molto più vicino il contenuto fare proprio il contenuto anche se questo contenuto abita millenni o è nato millenni prima di noi e le vedete non so banalmente Ettore è un eroe che sentiamo più vicino a noi rispetto ad Achille sei d'accordo prova a spiegare perché devono capirlo o pensa a un duello famoso è il primo che ti viene in mente raccontalo io questo lo faccio sempre nelle classe e la maggior parte di loro va a prendere o dal cinema dei duelli che hanno visto o dai fumetti che conoscono benissimo oppure dallo sport perché l'epica diciamo è uno dei linguaggi che lo sport ha rubato diciamo così alla letteratura e diciamo grandi scrittori del novecento si sono misurati su quello è una delle parti che noi abbiamo esplorato anche il racconto dello sport in alcuni dei libri nella seconda luna in maniera particolare hanno le loro ricerche e te lo devono spiegare mentre te lo spiegano capiscono di più chi sono Ettore Achille e lo capiscono attraverso la scrittura direi basta ci abbiamo fatto nel senso che se dovessi però riassumere Ale prima di darti la parola e capire se c'è qualche domanda è questo ci sono due modi per sollecitare la scrittura una è scomporla e far sì che ciascuno di loro sia propri di chi abbiamo davanti sia propri degli elementi che la costituiscono oppure prima di fare tutto questo e non dimenticare trovare strategie per coltivare l'esigenza personale che sta dietro perché se non ho questa questa è la nostra opinione di disezionare la scrittura nei suoi elementi costitutivi può dare l'impressione di padroneggiarla ma è un padroneggiare molto labile che dopo 3-4 mesi si disperte perché nessuno sente il perché dovrebbe possedere questo per farlo scusate per coltivare uno dei gesti che deve accompagnare questa coltivazione lenta lenta è spegnere le paure del senso di inadeguatezza attraverso sostanzialmente esercizi che più o meno li accompagnano ma non limitano la loro espressività ed esercizi che non si concludono una volta non si concludono nel momento in cui li hanno fatti non sono operazioni di matematica non è che se io faccio uno più due e ho trovato tre allora funziona se gli sto facendo fare un piccolo test piuttosto che farne 500 rielaborarlo rigirarlo montarlo partire dalla trama e rifare l'intreccio permette loro di stare a bagno in un posto dove si sentono al sicuro ma non smettere di ragionare di suscitare la curiosità dopodiché a un certo punto arriverà la noia e a lì bisogna cambiare questo stesso atteggiamento che si trova a livello microscopico macroscopico quando si lavora sulla narrativa o la poesia si può accoppiare addirittura a cose che ci sembrano molto lontane che sono appunto l'epica greca per intenderci o quella cavalleresca o i miti dell'origine eccoci Ale grazie Alessandro grazie mille non so se vedi la chat che scorre ma ti ringrazio diffusatamente per gli stimoli che ci hai dato non guardavo perché c'è lo schermo tutto pieno ci sono solo tanti grazie mentre che arrivano delle domande te ne vorrei fare una e ci hai mostrato diciamo un esempio di laboratorio su un racconto e sull'epica ma invece questi metodi possono essere applicati anche ad altre tipologie testuali ad esempio possiamo utilizzarli anche per lavorare su un romanzo sì cioè nel senso adesso mi espongo alla faccenda non è che non bisogna fare scritture d'uso lo so che serve farle a scuola diciamo e che sono utili per alcuni casi e ci sono degli elementi delle cose diciamo degli oggetti narrativi su cui sembra più difficile farlo le premesse sono le stesse però cioè ogni oggetto narrativo che affronto può essere assorbito a livello informativo quindi spiegato analizzato e rielaborato affinché quella comprensione sia più efficiente poi ad esempio nel nostro libro di scrittura cioè scrivere noi coltiviamo anche i singoli gesti dell'uso cioè le scritture d'uso la descrizione l'argomentazione e via dicendo ma posso addirittura fare le tue cose insieme se parto dal presupposto che l'obiettivo non è tanto e solo far insegnare loro come scrivere un'email o come scrivere un diario o come scrivere una biografia ma penso che quelli sono strumenti attraverso cui gli studenti e le studentesse possono rielaborare contenuti importanti posso provare ad agganciarli vi faccio vedere un secondo due pagine ad esempio un laboratorio che abbiamo fatto su Foubert su Madame Bovary naturalmente questa parte sarebbe quella che noi chiameremmo comprensione e quindi sostanzialmente noi stiamo lavorando sulla comprensione come rilavorerebbero tutti quanti a modo nostro cioè scrivi osservo rileggo chiamiamo le cose proprio con il loro nome cosa devo fare? Rileggere e capisco un po' di più perché anche oltre a riscrivere ogni tanto bisognerebbe rileggere lo so che il tempo è tiranno nelle scuole però magari si fa un po' meno e si sta un po' di più su una cosa perché è più facile che loro entrino dentro qualcosa ma l'altra che fosse la parte più interessante di cui parlavamo è questa cioè io posso partire da Notre Dame e posso immaginare di esplorare delle forme della scrittura dando però come sostanza di quella scrittura contenuti che intanto gli sto insegnando faccio degli esempi che vedete già qua chiamati con il proprio nome ed esagero perché a noi Olden ci piace divertirci in generale non è che devo fare per forza solo le cose cioè la prima è la sceneggiatura immagino di lavorare alla sceneggiatura di Notre Dame devi stendere con un ritratto preciso e chiaro di Esmeralda ai sei righe a disposizione leggendone il regista di un film si farà un'idea di che attrice coinvolgere di come rappresentare in scena la protagonista quello che sto facendo fare è una descrizione in realtà però lo sto attivando dal punto di vista dell'immaginazione perché è stato un po' a bagno in Notre Dame e poi tutto sommato deve prendere quello in cui è stato a bagno e rimettere le noti posso esagerare ancora di più cioè nel giornalismo il coccodrillo lo sapete è un pezzo commemorativo che viene preparato prima della morte di un certo personaggio è pubblicato non appena si verifica il suo decesso usa l'immaginazione e scrivi in una decina di righe un coccodrillo per farlo ovviamente dovrai conoscere qualcosa di questi di questo personaggio puoi leggere passi del romanzo per intracciare alcune informazioni su di lui oppure cercarle ti indichiamo naturalmente prima sono stati indicati dove il copywriting che è un gesto che i ragazzi sono chiamati anche a livello di lavorativo a fare dopo le superiori scrivi un breve testo per pubblicizzare il prossimo spettacolo di Esmeralda naturalmente questo prevede il fatto che queste tipologie testuali siano state affrontate prima di essere richieste ma che come si affrontano e lo anticipavo è volta a volta frase a frase pezzo a pezzo fatto nel volume ad esempio che noi chiamiamo scrivere e di cui trovate alcuni materiali appunto a disposizione perché lì è più facile sarebbe molto da spiegare su come fare il copywriting ma lo trovate spiegato magari lo sapete anche voi ma il modo in cui è io posso spiegare che cosa è un copywriting ma poi per farglielo eseguire a volte posso unire i due gesti cioè il romanzo che sto facendo nelle ore biblioteca diciamo di lettura e la scrittura li unisco e spengo anche qui in qualche modo la loro paura perché stanno a bagno in qualcosa e li ha già toccati poco prima direi grazie Alessandro in chat fanno notare che molto spesso comunque il tempo per fare questi laboratori in classe non c'è sempre e quindi ti volevo chiedere se secondo te queste sperimentazioni che ci hai proposto possono essere anche date come compito da fare a casa e poi magari riportate in classe e commentate o riviste insieme sì diciamo no mentirei se vi dicessi che funzionano solo a casa questo è proprio sbaglio però funzionano se sapendo che il tempo è tiranno proviamo a levare almeno una mezz'oretta da qualche parte e li accompagniamo almeno per un quarto d'ora nella scritta cioè proviamo ad accompagnare perché se lo facciamo all'inizio a poco a poco dopodiché potremmo chiedere sempre di più cioè se io do loro quei tre punti da svolgere chiedendogli che voglio sei righe nel punto mediano da dove siamo partiti è il numero due e ho almeno cinque minuti ho chiesto loro di farlo lì cinque minuti cinque minuti che vuol dire quindici perché cinque minuti io chiedo loro di farlo e poi anche senza leggere che li metta a disagio quello che hanno fatto in cinque minuti chiedere ok tu cos'hai pensato tu cos'hai pensato tu cos'hai pensato si fa un micro commento e si chiede loro di finire quella cosa l'altro tempo purtroppo per fortuna che bisogna impiegare è nella rilettura se si vuole però se iniziate da sei righe è pochino e lo farei sempre come esperienza condivisa cioè facendo perdere perché penso entro nel dettaglio finemente psicologico però quando si insegna la scrittura una delle cose che si può fare subito è spegnere un pochino anche la paura di essere me perché non tutti loro hanno la naturalezza di essere esposti a un pubblico per quanto questo sia paradossale visto che vivono nell'epoca dei social però quello che scrivono lì può mettere più a disagio perché in una qualche forma c'è più verità lì dentro che altrove e provare a dedicare un quarto d'ora venti minuti a leggere tre o quattro di questi esempi commentando l'insieme bellissimo questo ma qua invece hai pensato che potresti fare anche questo fa capire che la scrittura non è matematica anche se tra l'altro anche la matematica dovrebbe essere ripresa la cultura del cosiddetto errore ma insomma che non c'è non c'è un errore quando si scrive sono tentativi di avvicinarsi a qualcosa poi chiaramente la recensione l'ha fatta in un certo modo quando gliela chiederò gli dirò beh però non hai rispettato questa cosa allo stesso modo in cui gliela dirò se l'ho già addestrato non hai rispettato il fatto che se vuoi fare un'epica ci vuole un avversario per Achille quindi si possono dare sono molto consapevole del fatto che all'inizio ci va un po' di investimento di tempo io lo farei molto presto perché su quello poi si può serenamente dare a casa poi da fare però ecco l'accompagnamento iniziale in cui loro provate a pensare quando portiamo i figli diciamo la prima volta in piscina cioè c'è chi di noi va e butta in piscina sapendo che sono degli esseri che nuoteranno e c'è chi invece piano piano almeno lo adagiano dentro l'acqua è solo quello cioè metterli a mollo per un istante e farli andare poi dopo tornano almeno la nostra impressione è che tornino un pochino da soli a poco a poco grazie Alessandro la chat ci ha presentato un'altra questione che ormai quest'anno soprattutto nelle classi e soprattutto tra gli insegnanti si discute molto che è quella dell'intelligenza artificiale cioè scrivere con l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale come non ci facciamo fregare l'utilizzo in classe sì oppure esatto anche sediamo a casa questi esercizi come possiamo insomma convivere con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale allora intanto è inutile è inutile fingere che sarà diciamo una delle cose che ci accompagnerà per i prossimi decenni quindi conviene prenderci inizio uno è diciamo un esercizio che noi ad esempio diamo sull'intelligenza artificiale però è complesso quindi bisognerebbe rifletterci un po' per voi è dare qualcosa da scrivere l'intelligenza artificiale e rendersi conto che è scritta male e quindi evitarla cioè far vedere dove l'intelligenza artificiale non può colmare il modo in cui gli esseri umani hanno scrittura dall'altra guardate ogni esercizio di scrittura io credo dipenda da due cose e provo a esplicitare che non significa che terremo botta contro l'intelligenza artificiale ma ci proveremo ciascuno di noi prima di scrivere fa mentalmente un gesto molto privato che è immaginare quello che state scrivere quasi nessuno scrive a braccio quindi vuol dire che se io ti faccio una domanda ad alta voce e ti chiedo c'è una ragazza che esce imbronciata da casa dopodiché incontra un cane e e chiede perché è imbronciata? e lì le risposte non sono scritte sono orali la scrittura nasce in quel getto lì peraltro storicamente la scrittura le storie raccontare nasce prima con la voce non che con le mani quindi io sto andando a coltivare la radice cioè se c'è un po' di interazione dal punto di vista dell'invenzio diciamo la latina nell'invenzione è radunare gli elementi che mi servono per fare la storia che sono pescate nella mia testa prendere uno che ne ha fatto un altro oppure un grande virgolette trucco è affidarli a coppia o a gruppi cioè io posso dire far mettere due persone insieme e dire tu come faresti la storia di questa ragazza che esce di casa? uno racconta la storia ma poi è l'altro che la deve scrivere e voglia spiegargli l'intelligenza artificiale come la deve fare per spiegare l'intelligenza artificiale come deve fare quel racconto tipo sulla trama lui dovrebbe scriverlo perché ha ricevuto da un altro una storia e lui la deve mettere per iscritto questo è un modo semplice cioè provare ad andare alla radice cioè l'oralità prima della scrittura perché? perché poi magari un giorno la useranno lo stesso perché non hanno tempo devono andare a giocare a calcio ma l'altro è che se hanno più viva vicino la loro storia sentiranno meno di dover usare dei trucchi per assolvere un compito cioè se alcune se sono due compagni di classe che vanno d'accordo e uno regala all'altro una storia e la responsabilità di metterla per iscritto e altrui chi la mette per iscritto non si sente così libero di fregare diciamo perché è più facile farlo con se stessi ma non quando hai un altro che fa da testimone diciamo e l'altro è provare a utilizzare diciamo ad esempio l'intelligenza artificiale come come posso dire come partner cioè tu dici all'intelligenza artificiale di fare qualcosa e poi non so all'intelligenza artificiale scrivono un racconto in prima persona al presente e poi tu gli dai come esercizio il dettare di chiedere l'intelligenza artificiale di farlo e tu farlo una versione diversa tipo al passato oppure tutto in terza persona può essere che ti fregano lo stesso ma usarla cioè metterla nella dinamica però è una cosa veramente molto recente in cui dovremmo sicuramente domandarci io non ho tanta paura cioè so che è uno strumento con cui si ovviano i compiti o si si frega però sta sempre a come proviamo a stimolar grazie Alessandro sì è come dicevo prima forse imparare a conviverci anche più che non so ok ti faccio un'ultima domanda proprio sul libro che ci hai mostrato durante la presentazione ci hai fatto vedere alcune nuove pagine della seconda quindi nuova edizione della seconda luna ci puoi dire in cosa è cambiata rispetto all'edizione precedente che come dicevi prima era uscita qualche anno fa beh che abbiamo imparato dalle persone che stanno collegate ad esso cioè abbiamo fatto un lungo percorso di ascolto la seconda luna è nata come uno strumento un pochino rivoluzionario cioè ha delle cose dentro che prima non si usavano tipo poche note solo racconti interi insomma ha dei codici diciamo alcuni erano utilizzabili altri meno nella pratica scolastica noi abbiamo avuto la pazienza e anche la fortuna di incontrare degli insegnanti da ascoltare sull'utilizzo e abbiamo provato a correggere le cose che secondo noi potevano essere più difficoltose naturalmente questo non ci è bastato perché ci siamo divertiti a fare mille altre cose cioè abbiamo consolidato la presenza della poesia strutturata un po' meglio una cosa che secondo noi poteva essere fatta allora meglio abbiamo ridisegnato il volume che noi chiamiamo narrare che sostanzialmente ha la spina dorsale nell'epica e nel mito e poi però riesce ad esplorare gesti vicini o promissi o diciamo prossimi a quel tipo di scrittura che sono vicini a loro abbiamo rinnovato l'offerta della biblioteca dei racconti e dei materiali sapendo che quello era un punto di forza già iniziale nel senso che non solo da scrittori diciamo siamo molto vicini alla materia o alle persone che hanno scritto quelle cose se sono vive ma sapendo che spesso la letteratura non è fatta lo dico per ragazzi è molto difficile bisogna portare i ragazzi ad avvicinarsi quindi ci sono alcune alcune tipologie di letteratura che possono aiutare loro ad alfabetizzarsi ad apprezzare la difficoltà credo che sia più navigabile dal punto di vista della proprio dell'utilizzo del testo in sé dove c'è la teoria dove stavano gli esercizi e via insomma sono tanti naturalmente non abbiamo cambiato le cose che ci piacevano se un racconto ti piaceva tantissimo l'abbiamo tenuto perché noi crediamo che da lì serva a passare e basta però è tanto adesso io diciamo poi Zanicheli è una bella collaborazione non è una riedizione cioè c'è tanta roba in più è un redesign consistente ecco della seconda luna però noi ne siamo profondamente non dico contenti perché sarebbe sciocco dirlo siamo profondamente convinti che possa fare ancora più efficacemente quello che prometteva di fare 5-6 anni fa perché abbiamo avuto anche la possibilità di misurarci con chi la utilizza in classe perché noi poi abbiamo magari un'altra fascia d'età possiamo ascoltare alcune alcuni studenti non altri quindi è diciamo un lavoro compartecipato tra noi la redone Zanicheli che ci accompagna sempre e ci aiuta anche a precisare ogni tanto le cose che abbiamo in testa quando facciamo solo gli scrittori e non i formatori e dai tanti insegnanti invece che abbiamo avuto la fortuna di incontrare dopo la prima abbiamo accompagnato a lungo è un testo che ci ha portato in giro per l'Italia che avevamo voglia di raccontare su cui abbiamo fatto tanti incontri e su cui siamo andati a sentire tipo i consigli di Cass dove ne discutevano e noi chiedevamo di poter capire che cosa c'era nella poesia che li convinceva o meno insomma mi piace pensare che la nostra sia una scuola che può lavorare con le scuole grazie Alessandro grazie mille grazie a tutti anche che vedo che scrivono esatto oltre a ringraziarti scrivono e per chi è curioso ricordiamo che da domani insomma insieme alla registrazione all'ESA daremo anche un estratto di alcune pagine della nuova seconda luna quindi le potrete riguardare ma a parte questo comunque ci tenevo a ringraziarti Alessandro per questo webinar e gli stimoli e le idee che ci hai che ci hai condiviso io ringrazio tutti anche anche voi che siete in ascolto che non vi vedo mai è sempre un po' questo strano questo momento webinar dove non vedo le persone vorrei vedervi perché insomma facciamo un lavoro simile anche se noi diciamo siamo in un'altra scuola e quando facciamo i libri pensiamo che possiamo essere dalla stessa parte ed è bello che Zanich Kelly ci permetta di stare ogni tanto creare questi punti di contatto grazie mille Alessandro grazie anche a tutti voi e un buon pomeriggio buona serata grazie mille Alessandro